ciao a tutti nel video di oggi mamma chiara torna a casa in mattinata vittoria si diverte a giocare con la piccola matilda vi lascio al video buona visione cani 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 i know you told your friend you're not ok and tell me what's wrong and why you never said you felt that way in case you're trying to stay strong and fake scappa luis scappa Federico non cominciare per cortesia ma puoi metterle questa cosa non puoi metterle grazie per aver visto il video se ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale ci vediamo domani